Nel vasto universo dei social media, le parole possono diventare il fulcro di tempeste emozionali, scatenando reazioni contrastanti e accendendo dibattiti infuocati. Antonella Fiordelisi, l'ex Vippona, si trova al centro di un turbine di polemiche a seguito di un commento controverso che ha suscitato indignazione tra le associazioni e i suoi stessi fan. Benvenuti su Reality Italiano, la tua finestra sul mondo delle notizie e del gossip più intrigante. Tutto è cominciato quando un ater ha osato classificare Antonella come una figura dimenticata, accusandola di utilizzare strategie per generare interesse. La risposta di Antonella a questa provocazione è stata quantomeno esplosiva, dimenticata. Solo con l'Alzheimer puoi dimenticarti di me. Questa affermazione ha creato un divario netto tra il pubblico. Molti dei suoi fan più accaniti hanno difeso la loro icona con foga e passione, considerando la sua risposta come un atto di ribellione contro gli haters. Tuttavia, un'ondata di critiche senza pietà si è abbattuta su Antonella. È stata accusata di affrontare con leggerezza una malattia così grave come l'Alzheimer, incrinando la sensibilità di molti. Un commento tagliente recitava, usare parole con tanta superficialità è un riflesso del tuo carattere. Cosa ne pensate delle critiche rivolte ad Antonella? Sono giuste e ben fondate? Oppure anche queste accusazioni sono state esagerate nei modi e nei toni? Non esitate a condividere la vostra opinione nei commenti. Ma le critiche non si sono fermate qui. Alcuni hanno fatto eco al dolore e alla devastazione che l'Alzheimer può infliggere alle persone e alle loro famiglie, un commento commovente recitava, le persone affrontano una lotta quotidiana per riconoscere i propri cari. Non è una realtà facile da accettare. Vergognati profondamente. Mi dispiace, ma hai davvero commesso un grande errore. Vi invitiamo a sostenere il nostro canale mettendo un like al video e iscrivendovi. Il vostro supporto è fondamentale per noi. Grazie. Nonostante le critiche feroci, esistono anche sostenitori convinti di Antonella, che difendono la sua reazione. Alcuni credono che le critiche siano eccessive e ritengono che Antonella abbia il diritto di rispondere alle provocazioni degli haters. Un sostenitore ha scritto con determinazione, ecco, diglielo, Antonella. Come puoi vedere, lei non ha di meglio da fare che commentare la tua vita. La situazione rimane carica di tensione mentre Antonella deve ancora replicare. Il mondo dei social media è in fermento, e tutti sono in attesa ansiosa della sua reazione. Continuate a seguirci per tutte le ultime notizie su questa controversia che tiene in scaccola rete.